Musica Sono le sette, buongiorno a tutti, oggi nel primo piano sui giornali, sui vari quotidiani c'è la scuola, accordo dunque trovato dopo giorni piuttosto complicati, accordo trovato tra lo Stato e le regioni, si parte, si riparte o meglio il 14 di settembre, certo non tutti i problemi sono stati risolti, anzi ce ne sono alcuni ancora aperti, ma intanto il governo ha garantito fondi sufficienti per far ripartire il meccanismo, la macchina della scuola italiana. Oltre alla scuola si parla molto anche del covid, del virus, perché i numeri stanno peggiorando in Italia, soprattutto per colpa dei focolai che si aprono soprattutto in questi giorni a Mondragone, quindi in Campania e a Bologna, numeri che però sono molto più brutti nel resto del mondo, soprattutto nel continente americano, Nord America e Sud America. E poi c'è la Merkel, un'intervista della Merkel che ha fatto molto discutere, che consiglia all'Italia di utilizzare tutti i fondi europei, a cominciare dal MES, il tanto discusso MES. Vedremo tutto sulle prime pagine dei giornali, a cominciare dal Corriere della Sera, che ha il titolo più importante proprio parlando della Merkel, il gelo, Merkel conte, la cancelliera invita l'Italia a pensare al MES, la replica faccio io i conti, scambio di battuta a distanza sugli aiuti europei, il premere il nostro piano a settembre. E poi vi dicevo, il ritorno a scuola sul Corriere della Sera, in classe il 14 settembre, non c'è spazio per un milione di alunni, si torna in aula il 14, investiremo un miliardo per una scuola più moderna e inclusiva, basta classi pollaio, ha detto il Premier Conte, presentando le attese linee guida, ma le regole imposte dall'emergenza costringono a fare i conti con la mancanza di spazio, non ci sono classi sufficienti per il 15% degli studenti, oltre un milione di ragazzi. Dal Corriere della Sera ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alla scuola, finalmente la scuola, ma un milione resta fuori, vedete il titolo è simile a quello del Corriere della Sera, Azzolina firma l'intesa con le regioni, via il 14 settembre, un metro separerà uno studente dall'altro, bisognerà trovare posti alternativi per il 15% dei ragazzi, didattica a distanza solo alle superiori. E poi si citano anche altri argomenti nella prima di Repubblica, nomine nel governo tutti contro Gualtieri, e poi come vi dicevo, mess, polemica, Conte, Merkel, e poi strage di Ustica 40 anni dopo, la verità nel labirinto. Il messaggero invece, anche qui scuola in primo piano, scuola, distanza e test a sorpresa, via libera delle regioni in classe il 14 settembre, un metro tra alunni, sì a 50.000 assunzioni, tamponi per professori e studenti, Azzolina lezioni in cinema e teatri, il nodo, seggi elettorali. E poi un altro argomento sul messaggero, burocrazia lumaca, sanzioni ai dirigenti che frenano le opere. Sulla stampa invece troviamo l'intervista integrale che ha concesso la Merkel ieri. Merkel, che poi vedremo meglio nella seconda parte della rassegna stampa. Merkel, l'Italia utilizzi tutte le risorse dell'Unione Europea. Intervista appunto con la cancelliera tedesca, basta parlare di paesi del nord e del sud, mentre il premier Conte che risponde sul mess, decideremo da soli. Ancora sulla stampa, la scuola ripartirà con le classi mobili. Il sole 24 ore si parla naturalmente di economia, in particolare si parla di Wall Street che ha fatto registrare un trimestre da record, ma con una scivolata finale, meno 2,4%. E poi manovra estiva, metà delle risorse a enti locali e cassa integrazione. Il fatto quotidiano si torna su un altro argomento, che è quello dei vitalizi che tanto ha fatto discutere praticamente con un blitz notturno in Senato, sono stati ripristinati i vitalizi agli ex senatori. E allora il fatto quotidiano titola così, citando un bellissimo film italiano, Audace colpo dei soliti noti. Così il Senato si ridà i vitalizi, cassa di casta, dice il fatto quotidiano, Forza Italia e Zanda Felici, doppio gioco Lega e Taverna dei Cinque Stelle, che annuncia, preannuncia il ricorso. Nella foto vedete Totò in versione scassinatore, esperto scassinatore. Proseguiamo con le prime pagine. Il giornale, il governo, anche qui scuola, con l'interpretazione naturalmente del giornale, il governo marina la scuola, piano blef. Inizio il 14 settembre, distanziamento, software, il 15% degli studenti farà lezione in cinema e parchi. Conte e Azzolina scaricano il barile sui presidi, mentre poi la politica, Salvini staccano i Cinque Stelle sui vitalizi, ma scippa altri senatori. E poi Mondragone, una bomba sociale. Vi dicevo del focolaio di Mondragone, Pregliasco dice casi più lievi, ma evitare la seconda ondata del virus. Sull'avvenire, anche qui scuola, tutti a scuola, forse, sui banchi il 14 settembre, è stanziato un altro miliardo, cambiano le distanze, ma un milione di studenti sarà fuori classe. Assunzione per 50 mila operatori. E poi anche qui si ricorda la strage di Ustica, 40 anni di misteri. Ci fermiamo per una breve pausa, a pubblicitare poi di nuovo in studio per la seconda parte della Rassegna Stampa. Di nuovo buongiorno a tutti. Dunque, dicevamo, parlavamo della scuola. Vediamo come l'argomento viene trattato dai vari quotidiani nelle pagine interne, a cominciare proprio dal messaggero che scrive questo titolo. Scuola al via il 14 settembre. Il governo stop a classi Pollaglio. Accordo tra esecutivo e governatori sulle linee guida. Si sfila De Luca che attacca sull'Election Day, che come sapete è il 20 e 21 di settembre, dunque una settimana dopo rispetto alla riapertura delle scuole. Conte si riaprirà in sicurezza, arriva un altro miliardo verso l'assunzione di 50 mila prof. a tempo determinato. E poi, ancora, leggiamo sul messaggero. Alla fine solo la campania si mette di traverso, ma le linee guida per la riapertura della scuola vengono approvate dalle regioni dopo 24 ore sulle montagne russe, con la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina nel Merino. E proprio però la grillina scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi, duettando con il premier Giuseppe Conte per illustrare l'accordo raggiunto. Prima la data è ufficiale il 14 settembre, gli studenti di tutta Italia torneranno a scuola, inoltre escluso per il momento, ma poi sarà sempre il virus a dettare l'agenda, l'utilizzo di separatori in plexiglass o altro materiale. Viene confermato il distanziamento fisico di un metro tra gli alunni. Ingressi ed uscite saranno differiti e scaglionati, mentre le lezioni saranno svolte a turni differenziati, sì alla mascherina. Ancora sul messaggero c'è una pagina, direi decisamente utile, con tutte le novità che aspettano gli studenti. In aula a un metro dalle rime buccali, quindi dalle bocche, sì ai test a sorpresa, il protocollo, la distanza si calcola tra i volti e non tra i banchi, gli scienziati servono i tamponi a campione su studenti e insegnanti. Aule aperte dal primo settembre, gli orari flessibilità e turni scaglionati, le classi divise in gruppi più piccoli, poi mascherine che per ora restano obbligatorie, assunzioni di 50.000 professori a tempo determinato, distanze, c'è il cruscotto informativo, scrive ancora il messaggero, e poi alle materne visiera per le maestre, e ancora i controlli, ecco la cabina di regia, un coordinamento sulle azioni sull'intero territorio nazionale, mentre nelle singole regioni vengono avviati dei tavoli regionali operativi, insediati presso gli uffici scolastici, con la protezione civile, gli assessori alla salute e alla scuola. Cambiamo per il momento argomento, perché volevo farvi vedere sulla stampa l'intervista ad Angela Merkel, che ha fatto discutere abbastanza, c'è stata anche la risposta del Premier Conte, Angela Merkel che in buona sostanza chiede all'Italia, consiglia all'Italia di utilizzare tutti i fondi che arriveranno dall'Europa, a cominciare da quelli del patto di stabilità. Vediamo l'intervista, le risorse dell'Unione Europea non restino inutilizzate, è un sostegno straordinario per l'Italia, un tasso di disoccupazione alti in un paese può diventare una dinamite politica, aumenterebbero i rischi per la democrazia. Merkel che peraltro in questi giorni inaugura il semestre a presidenza tedesca dell'Unione Europea. Ancora vediamo alcuni passaggi di questa intervista, non credo si debba parlare, questo è molto importante, dei paesi del nord e del sud, per i paesi che hanno già un livello di indebitamento molto elevato, ad esempio l'Italia, ha più senso ricevere sovvenzioni anziché ulteriori prestiti, dunque sovvenzioni e non prestiti. La pandemia ha avuto un impatto enorme sulla Spagna e sull'Italia, è necessario che la Germania non pensi solo a se stessa, ma che sia pronta a compiere un atto di solidarietà. Siamo cresciuti con la consapevolezza che gli Stati Uniti volevano essere una potenza mondiale. Se ora dovessero abbandonare questo ruolo, dovremmo avviare una riflessione profonda. Per quanto riguarda ancora questa intervista, volevo segnalarvi il passaggio, quello che riguarda più da vicino l'Italia, a cui la cancelliera consiglia l'utilizzo del MES, ma anche di tutti gli altri strumenti che l'Europa metterà a disposizione. Dalla stampa passerei al Corriere della Sera, perché intanto anche sul Corriere c'è la sintesi, troviamo la sintesi dell'intervista. Vedete Merkel, l'Italia e il MES l'abbiamo creato perché venga utilizzato. Anche qui possiamo vedere alcuni passaggi. Ad esempio la Germania sia pronta a un atto di solidarietà verso i paesi più colpiti dalla pandemia sul piano economico, sanitario ed anche emotivo. E poi si rivolge la cancelliera ai quattro paesi frugali, i fautori dell'austerity a tutti i costi, che sono capitanati sostanzialmente dall'Olanda. Dice per i paesi con un alto tasso di indebitamento i crediti hanno meno senso dei contributi, ma non mi faccio illusioni, il negoziato sarà difficile. Naturalmente si parla anche del recovery fund, quello europeo, perché come sapete un recovery fund viene preparato anche dal governo italiano in questi giorni. Ma quel che conta di più in questa fase tutto sommato è la risposta del governo, la risposta del Premier Conte, che troviamo ancora una volta sul Corriere della Sera. Come vedete anche dal titolo arriva subito lo stop del Premier. Ai nostri conti ci penso io. E Gualtieri rassicura dal primo di luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone. La risposta di Giuseppe Conte è secca, quasi brusca. Quanto basta per far capire alla Germania e all'Europa che il governo italiano non consentirà ingerenze nel campo delle scelte economiche, in quello delicatissimo della politica interna. Sul MES non è cambiato nulla rispetto alle opinioni della Merkel, ma a far di conto per l'Italia ci sono io con il Ministro Roberto Gualtieri, i ragionieri dello Stato e i ministri. È lo stop forte e chiaro del Presidente del Consiglio. Ci stiamo predisponendo per un recovery plan, come vi dicevo prima, italiano, che presenteremo a settembre. La replica dai toni inediti arriva dunque durante la conferenza stampa sulla scuola Palazzo Chigi. Questa è la risposta, come sottolinea anche il Corriere della Sera, piuttosto brusca del Premier Conte. Restiamo sul Corriere della Sera però, perché ci sono naturalmente altre notizie, a cominciare da quelle sul contagio, che si fa preoccupante nel continente americano, come vi dicevo, e che è preoccupante anche negli Stati Uniti, dove il virus sta mietendo, lo sapete, moltissime vittime, ci sono tantissimi contagiati, pensate che nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 40 mila contagi. E allora, qual è la situazione in particolare? Due giorni di contagi record e c'è un caso Texas. In particolare, sono messi peggio gli stati meridionali, Texas, la Florida, ad esempio. La curva della pandemia ha toccato quota 40 mila nuovi positivi, con 2.500 morti nelle 24 ore. Gli esperti dicono la seconda ondata si deve alle ridotte misure di protezione e non alla diffusione dei test. E ancora, restando in tema Stati Uniti, Covid, quali sono le ragioni per cui il virus sta mietendo così tante vittime negli Stati Uniti? C'è un articolo interessante di Giuseppe Sarcina che analizza questo argomento tempi lenti e propaganda quali errori di Trump vedete tra parentesi hanno portato alla crisi? C'è la mappa degli Stati Uniti con le zone diciamo così rosse quelle più preoccupanti che come vi dicevo sono al sud Florida e Texas in particolare ma anche California. È tutto per quanto riguarda questa rassegna stampa noi ci fermiamo qui ora le previsioni meteo con Paolo Sottocorona. Sì buongiorno queste le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi calcolata fino alle ore 14 piccolissima parentesi perché 14 non 13 o 11 perché tutte le carte meteorologiche hanno un orario che è quello di Greenwich o Greenwich come andrebbe detto e la differenza è un'ora d'inverno e due ore d'estate quindi queste sono carte calcolate alle 12 di Greenwich che sono le nostre 14 ecco svelato il mistero le piogge sono poche sulle zone del centro qualcuna sulle zone alpine ma ancora piuttosto deboli e assenti sulle altre zone nel pomeriggio quindi dalle 14 alle 2 le 12 ore successive compare qualche qualche fenomeno un po' più intenso i nuvoloni qualche rovescio forse anche qualche temporale zona molto ristretta fra Abruzzo e Marche e poi qualche fenomeno localmente intenso anche sulla fascia alpina e prealpina però sono molto meno di ieri quindi questa instabilità è presente al nord ma si attenua andiamo a vedere tutta la giornata di domani e vedete infatti che scompare quella pur minima instabilità sulle zone del centro anche se in Calabria compare un'isolatissima zona che potrebbe dare proprio un temporale diciamo dei temporali uno solo perché comunque in questa situazione di più non ne può dare e ancora sul Piemonte qualche fenomeno ma vedete che anche sulle zone alpine prealpine centro orientale tutto si allenta molto vediamo anche la giornata di lunedì non cambia molto quella piccola instabilità residua si sposta da ovest verso est prende essenzialmente il Trentino e poi vedete che al centro sud invece estate piena insomma tempesta tempesta di sereno un termine gergale che si usa o si usava forse nel servizio meteorologico allora le minime di questa mattina sempre piuttosto elevate e abbastanza sopra la media guardate il colore forte diciamo verso l'arancione dell'acqua del mare perché anche lei ovviamente in questa situazione aumenta la sua la sua temperatura chiudiamo con i mari che sono localmente mossi i canali fra le isole maggiori e rispetto a ieri che avevamo sempre un po' questa zona il tirreno occidentale ma qui siamo proprio sul filo fra il poco mosso è il mosso quindi c'è un po' di vento meridionale ma non sono venti particolarmente intensi se volete ci vediamo subito prima delle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale da più tardi grazie a tutti